Eeeh, what's up a tutti, c'è ormai benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2 Vediamo ragazzi se riusciamo ad aggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno, non so neanche più da quanto tempo ragazzi Possiamo finalmente giocare l'episodio 4 che comunque è stato pubblicato qualche giorno fa Io come sempre devo arrivare un pochettino in ritardo Non voglio aggiungere altro, sappiamo benissimo cosa è successo Non sappiamo bene cosa succederà Non perdiamo più tempo e andiamo a incominciare Ci hanno fatto vedere il trailer in cui ovviamente in maniera molto spezzettata ragazzi Hanno provato a spiegarci un pochettino quello che dobbiamo aspettarci Diversi di voi probabilmente già l'hanno giocato Qualcuno di voi mi ha anche scritto Giocherina ma quando lo giochi voglio vedere la tua reazione a certe cose Perché mi avete detto In a wild wild world There were two wolf brothers living in their home there with their papa wolf They lived in peace until hunters took their dad away And they had to go on the run That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf But a super wolf They discovered a secret hideout where they could train day and night They were happy But the little wolf got very sick And they had to move on The brothers made it to the home of their ancestors And the old wolves took care of them Unfortunately The hunters were hot on their trail And found them The brothers had nowhere to stay again So they decided to keep going south They soon entered the old forest of the giants Where they met a pack of stray dogs Who worked on a secret farm The brothers joined them And worked hard To stock up on gold For the future They were happy to find others like them And everybody loved the little wolf Who was growing up fast His power was growing too The little wolf The little wolf was more and more confident And independent The big brother loved having a new pack to prowl around with He felt free for the first time Suddenly The mean farmers who owned the land Tried to hurt the brothers The little cub was injured He transformed into a super wolf And destroyed everything The big brother was badly wounded And worse He didn't know where the little cub was Ok Riassunto di tutti gli episodi ragazzi Che abbiamo giocato fino ad ora Stavo dicendo che alcuni di voi mi hanno detto Che questo qua è l'episodio più bello Che hanno giocato fino ad ora Perché effettivamente i primi tre ragazzi Ci hanno lasciato un pochettino con l'amaro in bocca Nel senso che non sono stati emotivi a livelli stellari Per cui magari in questo quarto episodio C'è quello che stavamo aspettando E quindi per questo motivo sono molto impaziente di giocarlo Vediamo un po' le cose poi come sono andate Mi chiamo ha pizzicato una zanzara Mannaggia santa Eccolo là Remember? Hey Sean I'm sorry I didn't mean to It was a bad idea Daniel No way It's all good Wish I listened When you tried to stop me from going with Vin I was too pissed It's okay dude You're my brother And that's all that counts So Why don't you come and get me? I don't know I don't know I don't know I'm alone Sean I don't know what to do I'm scared Don't get so close to that edge Please Come and get me Yes I swear Stop Ovvio Ok è stato portato in un ospedale E questo l'avevamo visto Un ospedale Due mesi dopo Accidenti Due mesi ragazzi Sono tanti eh Due mesi che Daniel non si sa Che il diavolo di fine ha fatto Daniel Eh Ok Allora Vediamo un po' Caspiterina Ha subito dei danni Cioè Considerevoli Bastanza importanti Se dici che non ha più percezione Nella profondità Eh Ok Ok è dell'FBI Ovviamente Maria Elena Flores Agente speciale Chiamami a qualsiasi ora Se vuoi parlare Eh Mamma mia Ovviamente Ci si è messo di mezzo L'FBI C'è una lettera di Cassidy Ok leggiamola ragazzi Hola Sean Gli sbirri dottori Non mi hanno voluto dire Quasi niente di te e Finn A parte che siete stati feriti E che siete sotto custodia Della polizia Ah E così che ho scoperto Il nome dell'ospedale Hanno parlato con me Anna e Penny O meglio Ci hanno interrogati E poi ci hanno lasciati andare Immagino che tu non sia stato Così fortunato Magari te lo sei meritato Spero che tu stia bene Dopo quello che è successo Probabilmente te l'hanno detto Ma io Anna e Penny Siamo stati rilasciati Senza accusa Beh Buon per voi Gli sbirri erano troppo Concentrate a fare un blitz In una piantagione Gestita dai trafficanti Per occuparsi di noi Panca bestia Che lavoravamo la terra Abbiamo chiesto di te Daniel Niente Ma va Senza di te Fin La nostra famiglia Di vagabond Di vagabond Distrutta Adesso siamo solo Un trio solitario Che prende i treni a caso Senza una vera meta Anna e Penny Non sono più gli stessi E litighiamo troppo Non so se rimarremo insieme Ancora per molto Le cose cambiano No So che presto Andrò in tribunale Per quello che è successo A Seattle E spero che tu Ottenga un po' di giustizia Spero che tu e Daniel Trovate presto la strada di casa Daniel Ci fosse Daniel Accidenti No Che tristezza ragazzi Veramente Cioè praticamente Ovviamente Con tutto il casino Che è successo La polizia è andata lì Cassidy è uscita illesa A quanto pare Dall'incidente Mentre Finn No Era rimasto ferito Come Sean E quindi Li hanno presi Sotto custodia Bene Che schifo Accidenti Album Cavolo ragazzi Cioè per lui Che adorava disegnare Che disegnava così bene Sono stato in coma Per settimane Sono cieco E vabbè Sotto custodia La polizia Presto finirò in gatta Buia Gli ospedali mi mandano fuori di testa Non ne posso più Dove è Daniel Ho paura Ah Gesù Ok 26 30 Marzo Ho provato a disegnare Per passare il tempo Questa stanza è una gabbia Ma faccio schifo Non ho senso la profondità Non è ispirazione Non ho niente Se mi concentro E mi crea Ne assicurata Sto impazzendo qui dentro Mi sono svegliato piangendo Oddio raga Che tristezza Agente segreto speciale Flora Sta cercando di legare con me Per fregarmi Mi crede per davvero Gli sbirri Non sono ancora riuscita A trovare Daniel Dopo l'esplosione Quindi è là fuori Da solo Oddio raga Che angoscia Che mi sta a venire Buon compleanno Ovunque tu sia E nano Claire e Stephen Mi hanno scritto Una lettera molto carina Mi sento così solo Che l'ho letta due volte È strano Ma mi mancano molto È bello avere notizie Anche da Captain Spirit Sono felice di sapere Che sta bene Il mio ritardo di Gio Non è così male Meno male che c'è lui Ho fatto un casino Con Daniel Ho lasciato che Finn Diventasse suo fratello I sensi di colpa Non finiranno mai Proviamo a disegnare Dai Proviamoci almeno Però deve essere stata Una brutta cosa Ragazzi C'è Ha ripercussioni Brutte Comunque Sul suo fisico E come potete vedere Abbiamo mezza visione Ragazzi Ovviamente Accidenti Non so se riusciremo come prima Effettivamente Ma io mi auguro di sì Dai magari con un po' di allenamento Esatto 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 Non devi Certo che puoi Ovvio Guarda caspita Già che gran risultato Sei grande Eh raga Cerchiamo Io non voglio essere troppo negativa Eh però Che scalinata è Dove porta Sta scalinata Effettivamente Visto che va verso il cielo È già un gran risultato Però Va bene Immagino che Non possiamo ancora camminare Suppongo Ok Visto che quello Non lo finiamo Direi di chiamare Che situazione Del cavolo Ovviamente Il suo pensiero Fisso Ragazzi È Daniel È anche il nostro Pensiero fisso Caspita Vabbè c'è altro Che possiamo fare Intanto Boh Non so Se possiamo fare Qualcosa Uno specifico Ehi Salve Ehi Good day, Sunshine Hey, Joey Hey, man That looks like it might have been food Hard to tell Ha ha Never heard that before Oh, somebody is in a bad mood Sorry, Joey, not feeling it today I don't blame you But maybe I got something to cheer you up Pecans and chocolate? Uh-oh There's that smile Thanks, Joey So how you feeling today? Any headaches? Socket pain? No It's all good Well, this is your final test before You know Before they Check you out Check me out, Joey Yeah Okay Let's see You know the drill Don't blink And just stare at the light Yes Nice retina response Okay Now Try to follow the light As well as you can Muovendo la testa con R Okay Come on, Sean You've been there before Eh, certo Good, good Keep going Quick response Nice Ficcato a sta roba Dai Remember To see objekti On your left side You gotta turn your head And warn Eh, certo Yes Looking good, Sean Now try to align your pen with mine I'll try No rush Muovendo la penna con R E premia per allinearla Con quella di Joey Your depth perception Will always be affected So you gotta try harder Shit Yeah, I know Minchia Non capisco Yeah, that's enough No, no capisco Ma Too much stress on you And your eye But remember Your depth perception Will always be affected Hmm Purtroppo Ah Sono un pirata I'm a pirate Without a patch Arr I'd be more worried If you weren't such a smartass You can try But you can't rig The exam, Sean Hmm It's time we release you Sorry Your vision has improved a lot Now you don't really have Severe side effects anymore Yeah That's just great I do have to tell them the truth But first Let's clean this dressing Hey Sure hope you're watching the door Like your phone Come on He ain't going nowhere Great All I do is watch him Yes True Your job Eccola Do you mind If we talk alone Mind if I finish with my patient He looks good for now Right Just Come back when I finish with him Sure I'll swing by later, Sean Ok Grazie, amico Stay cool So How are you feeling today, Mr. Diaz? Amazing Did you find Daniel? I want to Go over this again What? I've been telling the same fucking story for three weeks How much longer Until it makes sense Until you get it right So Silence isn't gonna help you now Listen close, Sean Tomorrow you're going to Jolina Shore And you'll be arraigned in court For the murder of a Seattle police officer You might spend the rest of your life in prison Innocente fino a prova contraria Scusa I'm innocent until proven guilty Right? And I believe that That's why I want you to tell me the whole truth It's just I can't Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No No way And you're absolutely sure Your dad didn't go after the officer Ma figurati He was killed Caspiterina Yeah He came outside Then he was killed That's what he did Just guilty of being Who knows I hear you but You're sure you didn't get upset And go after the officer? It happens Jesus No Look at me Okay Let's just Jump ahead Tell me what happened In that farm in Humboldt The place looks like a tornado Wiped it out I've told you so many times I have no clue why the place was trashed I passed out Plus three seriously wounded Along with you And a missing child Nobody's statement Matches with each other Sean Throw me a bone here Figuriamoci di Finn Scusa eh È la verità Ci ha mentito Cioè ragazzi È stata colpa di Finn Mo Scusate eh Ci ha mentito Ma figurati Non era d'accordo Non volevo niente Di tutto questo Non volevo niente di tutto questo They can visit you after you're transferred Might be a while But you do have a support group We couldn't track down your mother though Sorry Good What about Daniel? You said you had leads I said might Hold on I gotta take this call Perché si dovrebbe mentire ragazzi In una situazione del genere Qui che c'è Ma scusa un cazzo Scusa è stata sua l'idea È sua la colpa Cioè che ci frega a noi Eh zio zio Che c'è possiamo far Possiamo farci niente Niente perché ormai È successo È successo Dobbiamo conviverci Ci vuole E basta E aspettiamo C'è Sì Si figuri Da quanto però Per far di che So you can lock him up too Right? Wow Grandioso E io sicuramente Dovrei stare qui Ad aspettare No? Che lei mi porti In quel posto Certo Look out I have to guard The guard now Love it Sit down So we can get This show going So How did you interview With Scully go intendi l'interrogatorio? grazie amico, grazie grazie a tutti siccome è facile ah per come sono io ragazzi che sono una persona purtroppo abbastanza negativa però dobbiamo cercare di essere positivi è l'unico modo per non cadere nell'oblio e nella disperazione più totali grazie a tutti sono cercate di essere positivi ma è così difficile grazie a tutti 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 Io sono curiosissimo di guardare dentro l'asciugamano. Vediamo. Che cos'è? Che cos'è? Wow. Non ho visto te in un'ora. Il suo quaderno è riuscito a recuperarlo in qualche modo. Grande. Grazie Joey. Bella mamma ragazzi, chissà dove diavolo è andato a finire, accidenti, da solo. Un bambino così piccolo. Boh. Infatti. O che vuole? O che vuole? Che vuol dire? Ok ragazzi ho avuto per un attimo un momento di vuoto totale nel senso che non mi ricordo effettivamente chi sia ma deve essere uno magari dei compagni che c'erano lì alla piantagione. E quindi qua c'è scritto ho preso in prestito una coperta un po' di cose dalla tua tenda, te le ridò appena viene a riprenderti il tuo fumetto di super lupo e qui che ti aspetta. Ok. Sì 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 era uno dei ragazzi della lì della piantagione sì. Ok. Fantastico. Vedete ho parlato molto con Jacob è un ragazzino è cresciuto in una specie di comunità religiosa oh mio dio a Haven Point in Nevada cazzarola in Nevada. Wow però potrebbe essere un sì ma perché andare da lui cioè perché C'è quanto quanto rapporto ci può essere stato fra di loro per far sì che Daniel andasse da questo qua cioè fino fino in Nevada ragazzi. Cioè è difficile come cosa però può essere plausibile perché sennò sto ragazzino che diavolo divina ha fatto questo è il punto. Ok. Ok. Time to clear off now. This whole hospital so quiet. So don't make any noise. Find away to get the hell out of here. Benissimo ragazzi allora riprenderemo da qui la prossima volta obiettivo attuale è quello di svignarcela dall'ospedale sicuramente ci riusciremo dobbiamo soltanto trovare il modo che dire sicuramente le cose si faranno più interessanti più avanti da quanto mi avete detto per cui questo video termina qui grazie a tutti un bacione. Abdocio a tutti ragazzi ciao. Vi ricordo ragazzi che se volete questi anti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.